Bari, aggressione al corteo antirazzista. Interviene Mino Borracino, consigliere regionale di sinistra italiana, liberi e uguali. È un classico, la destra rivendica ordine e sicurezza, ma poi fomenta i fascinorosi. La vile aggressione di Casa Pound nei confronti dei manifestanti del corteo antirazzista ricorda tristemente il fattaccio che portò all'assassinio del caro Benedetto Petrone. Il governo sbaglia a minimizzare. Questa volta non ci sono state vittime, per fortuna, ma la dinamica è la stessa. Salvini non è il ministro che garantisce l'ordine pubblico, anzi, con i suoi discorsi, fomenta il disordine pubblico. E conclude così Borracino la nostra solidarietà all'onorevole Forenza e grande affetto al nostro compagno Claudio Riccio. Non passeranno.